50 minuti in diretta dal nostro quartiere generale di Milano, come sapete ieri sera ha giocato l'Italia per quelli che sono appassionati di calcio, di nazionale, chiamatelo come vi pare e a tal proposito ci trasferiamo a Roma proprio per fare un commento a caldo sulla partita della nazionale perché vedo con quel microfono, non so se è Giacomo Valenti, chi era l'altro commentatore, ovviamente stiamo scherzando, siamo molto felici di rivederli, sorridenti e sempre determinati, vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, Riccardo Nuti, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, buongiorno Luigi, buongiorno Riccardo. Ciao Scusate ovviamente per questo incipit ma con quel microfono incredibile davvero sembravate due commentatori sportivi allora invece che perdere tempo a scherzare ne abbiamo parlato in questi ultimi minuti anche la chat, insomma al nostro ecosistema in questo momento ci sono 6.000 persone collegate e sono molto preoccupate perché appunto si è parlato di questo colpo di Stato per cambiare la Costituzione proprio alla fine di luglio quando verrà portato in aula questo profedimento per cambiare questo articolo 138 della Costituzione. Ci aiutate ragazzi voi che siete lì dentro a capire meglio la dimensione di questo tentativo assolutamente ricevibile di cambiare la Costituzione e che cosa significa? Partiamo un attimo dal principio, questo governo quando si è insediato si è messo in testa che l'obiettivo principale di questo paese, cioè la cosa più importante in questo momento era l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ovviamente non è così banale ma nasconde dentro questa idea del semipresidenzialismo che significa dare sempre più potere in mano ad uno solo e poi di fatto in Italia il semipresidenzialismo già esiste perché il governo praticamente eserce il potere legislativo attraverso i decreti e costringe il Parlamento semplicemente a ratificarli quindi è inutile che ci vengono a dire che per cambiare le cose in Italia serve più potere nelle mani di pochi perché già c'è un sacco di potere nelle mani di pochi e proprio con i decreti hanno distrutto questo paese facendo sempre procedimenti d'urgenza. Ora il discorso è questo, i nostri padri costituenti quando hanno fatto la Costituzione ci hanno messo dentro l'articolo 138 che è quello che disciplina come si deve modificare la Costituzione. Sappiamo che la Costituzione è divisa in due parti, la prima è immodificabile, sono i principi generali e meno male che non si possono toccare, la seconda riguarda la forma di Stato, quindi di governo e così via e si può modificare. Ora secondo l'articolo 138 la Costituzione si modifica attraverso il Parlamento che fa due passaggi della legge costituzionale a distanza di tre mesi quindi Camera, Senato, passano tre mesi, di nuovo Camera e Senato. Questi signori si sono messi in testa invece che bisogna modificare il 138 per poi modificare la Costituzione. Hanno messo in mezzo il Comitato dei Saggi, poi si sono inventati il Comitato per la Costituzione quindi non saranno più la Camera e il Senato, le Costituzioni affari costituzionali a modificare la Costituzione ma questo Comitato fatto da 20 deputati e 20 senatori che poi porterà la proposta di legge alle Camere e si via. Che cosa sta succedendo in questo momento? Che il disegno di legge costituzionale che modifica l'articolo 138 e quindi istituisce il Comitato per la Costituzione, la storia dei saggi e così via deve passare per il Senato fino al 15 luglio e poi arriva alla Camera e poi sta fermo tre mesi per tornare al Senato e ritornare alla Camera. Alla Camera arriverà il 29 luglio. Questa è una cosa importantissima, significa tanto perché noi per il 29 luglio non riusciremo mai a discutere il disegno di legge costituzionale. Ciò significa che molto probabilmente slitterà ad agosto. Qual è la cosa importante? Che quando slitterà ad agosto noi non potremmo fare ostruzionismo a questa legge non potremmo presentare emendamenti per un certo numero consistente perché scatta già il contingentamento dei tempi. È una cosa che riguarda il regolamento ma in sostanza significa che se tu calendrizi la legge a luglio se non riesci a discuterla per luglio, il mese dopo devi accorciare subito i tempi. Questo che significa che le opposizioni non possono presentare e ostacolare questo folle meccanismo in pieno agosto di modificare la Costituzione. Ora capite che il garante di tutto questo dovrebbe essere il Presidente della Camera che nella conferenza dei capi di gruppo, che è lì dove si decide il calendario dovrebbe dire con buon senso, guardate, calendarizziamola a settembre così l'opinione pubblica è più attenta, noi abbiamo più tempo per discutere e le opposizioni hanno lo spazio per presentare gli emendamenti. Cosa che invece non è stata fatta e anche avallata dalla Presidenza della Camera alla scorsa conferenza dei capi di gruppo dove stavamo io e Riccardo praticamente è stata calendarizzata la modifica dell'articolo 138 il 29 luglio. Ora tenete presente che noi alla Camera questo mese dovremo convertire sei decreti, ciò significa che tutto luglio, e ci metto la mano sul fuoco, se ne andrà per esaminare i decreti. Il 29 luglio non arriveremo mai a discutere il disegno di legge costituzionale, ciò significa che arriveremo ad agosto, la maggioranza chiederà il contingentamento dei tempi e noi come Movimento 5 Stelle, che abbiamo 107 deputati, non avremo neanche il tempo di far valere le ragioni che si dovrà subito andare a votazione. Capite che ad agosto i Tg, tutti i media sono spenti del tutto, trasmettono i film di Babbo Natale a Ferragosto, lo sapete meglio di me, e allo stesso tempo noi non avremmo quel potere di attrarre l'opinione pubblica, che per una serie di ragioni ad agosto è sempre ferma. Io vi voglio solo far riflettere su una cosa, in questo momento c'è un Parlamento incostituzionale, perché è stato eletto con una legge elettorale che la Corte Costituzionale ha dichiarato viziata di incostituzionalità, che sta modificando la Costituzione con una procedura in deroga alla Costituzione, quindi incostituzionale, e sta per istituire una forma di Stato che è viziata di incostituzionalità proprio perché è fatta con questo metodo e da questo Parlamento. È una tragedia che ci sta passando sotto il naso e sembra che nessuno se ne voglia accorgere. La complicità di gente che ha sempre difeso la Costituzione, parlato di Costituzione come la Presidente della Camera, e però poi ci viene a rispondere che lei è inerme e non ha potere. Il Presidente della Camera ha un potere enorme, ha l'ultima parola su tutto, e probabilmente, vi dico questa cosa, questa è la voce che circola, Fini era molto più garantista delle opposizioni di quanto lo sia la Presidente in questa legislatura. Luigi, abbiamo apprezzato in questi mesi anche il tuo alto livello di adesione al senso istituzionale, nei tuoi interventi, nelle tue conduzioni da Presidente delle Assemblee, però è lecito o è da complottisti pensare che tutto questo disegno sia fatto apposta in questo periodo dell'anno perché l'attenzione degli italiani è più sopita del solito per mettere in mano appunto a questo cambio incredibile della Costituzione per continuare a preservare la persistenza stessa della casta? Ripeto, è pensabile? Ma è chiarissimo, ma è chiarissimo, questo è un disegno chiaro, chi non lo vuole vedere o fa parte del complotto oppure è in malafede in questo momento. Pensate che poi tra tre mesi il prossimo step molto probabilmente sarà nelle ferie natalizie, qui è tutto studiato e il secondo step, come vi ho detto, è il procedimento aggravato che disciplina il 138 della Costituzione, non è possibile neanche presentare emendamenti o prendere o lasciare, quindi noi tra tre mesi quando rianalizzeremo di nuovo questo disegno di legge come dice l'articolo 138 alla fine non avremo neanche il tempo e il modo per disciplina la Costituzione di modificarlo. Siamo in un momento in cui ci gioca tutto nel mese di luglio ed agosto, vi rendete conto che stiamo modificando l'articolo che disciplina le modifiche della Costituzione in piena estate, lontano dai media che in parte conniventi e in parte spenti perché gran parte delle trasmissioni hanno chiuso il loro palinzesto, alla fine non metteranno la giustazione su questa questione. Ragazzi da fuori, come possiamo aiutarvi? Quali sono, perché a questo punto ovviamente anche i numeri sono importanti, questi due terzi potranno farlo questa votazione, come possiamo arrangiarci, come possiamo aiutarvi, come possiamo dall'esterno aiutare i nostri 160 parlamentari all'interno delle istituzioni? Riccardo? Guarda, secondo me bisogna cercare di smuovere l'opinione pubblica quanto più possibile, cioè far partire quella coscienza che abbiamo sempre richiesto, quell'attivismo che non richiede in questo caso grandi attività, però fare passaparola, eventualmente anche organizzare delle manifestazioni affinché questo tipo di disegni di legge costituzionale avvengano quando c'è la presenza, l'attenzione dell'opinione pubblica è fondamentale, perché altrimenti si continua ad avvallare quel concetto di distanza fra la politica e i cittadini, cioè la politica fa le più grandi variazioni, i più grandi provvedimenti, quando i cittadini sono assenti per giustificati motivi, perché ovviamente il periodo estivo è anche comprensibile che dopo un anno di lavoro ci si tieno persone che vogliono un minimo riposarsi. Allora il concetto qual è? Cercare di spiegare come la modifica della Costituzione non sia un provvedimento che tanto non tocca le tasche dei cittadini, ma le tocca e come, perché se in questo Paese si vuole riuscire a mantenere il Paese in democrazia e non in dittatura, è fondamentale garantire il ruolo delle opposizioni, altrimenti potremmo anche chiudere il Parlamento, come per carità, vista la classe politica che c'è, molti si augurano, e lasciare tutto il governo, ma la nostra, essendo una Repubblica parlamentare, è ovviamente basata su quello che è il lavoro del Parlamento che dovrebbe andare verso il governo e non viceversa. Quindi bisogna riuscire in maniera semplice e chiara a far passare questo concetto. Signori, stanno cercando di modificare l'articolo che a sua volta dice come si può modificare la Costituzione e se questo lo riescono a fare, soprattutto quando non c'è l'attenzione dei media, rischiamo di passare senza accorgercene da una Repubblica parlamentare a presidenzialismo senza averlo scelto. Cioè è come se in una casa ci cambiano le fondamenta e ce le mettano di sabbia senza che noi ce ne accorgiamo. Le conseguenze saranno che alla prima occasione la casa cadrà e la stessa cosa è lo Stato italiano. Alla prima occasione ci si sta poco a passare da una Repubblica democratica a un presidenzialismo che tende a essere una dittatura, un atteggiamento che non coinvolge i cittadini. Noi dobbiamo passare verso uno Stato che coinvolga i cittadini, in questo modo invece li ascoltiamo sempre di meno e facciamo le riforme più importanti, ripeto, la Costituzione, proprio nel momento in cui i cittadini per giusti motivi sono più assenti. Nella chat ci stanno chiedendo ovviamente, scusa Luigi, ci stanno chiedendo solo di poter imitare quello che sta succedendo per esempio in Egitto che è successo in Turchia di venire il 29 luglio centinaia di migliaia di persone, i cittadini sotto piazza Montecitorio come se fosse piazza Tahrir per caso in questo momento. Attenzione, su questo c'è come ha preannunciato Luigi c'è un trucco, nel senso, noi possiamo anche organizzare una manifestazione spontanea, ovviamente pacifica, non violenta, per sensibilizzare sull'argomento il 29, ma il rischio è che la si organizzi per il 29 e la spostino al 3 di agosto per esempio, al 4 di agosto, quindi bisogna avere le forze di poter farle in entrambi i casi, sia se il 29 sia se la spostano al 3 agosto, perché il rischio qual è? che si fa il 29, poi vuoi un po' per i tempi che tanto non ce la faremo per i lavori, vuoi un pochettino perché magari c'è questa opinione pubblica, questa piccola manifestazione che è pressa, la spostano ad agosto, poi le persone ad agosto dopo qualche giorno non ritornano sotto il Parlamento a manifestare e quindi lì potremmo subire comunque la beffa. Ma io voglio dire pure un'altra cosa, noi rispetto all'Egitto, rispetto alla Turchia, noi abbiamo una fortuna qua in Italia, che quella folla ce l'abbiamo in Parlamento con un 25% di deputati e di senatori che stanno all'interno del Parlamento e possono dare fastidio. Io vi invito a seguire i lavori del Parlamento a luglio, quando si dovranno convertire i decreti. A differenza delle leggi, sui decreti non esiste il contingentamento dei tempi, significa che 107 deputati possono fare 107 interventi di 5 minuti sugli ordini del giorno, 53 interventi per un minuto ciascuno per ogni emendamento presentato. Se questi signori vogliono modificare la Costituzione in pieno luglio e agosto, noi l'estate gliela facciamo passare appresso ai decreti e alla conversione dei decreti, questo sia chiaro. E poi voglio dire un'altra cosa, Matteo, che è importantissimo, per questo serviranno le persone e i cittadini. Noi chiederemo sicuramente il referendum su questa riforma costituzionale. Non la possiamo chiedere solo come Movimento 5 Stelle, chiederemo anche a qualche altra parte, non di maggioranza del Parlamento, di chiedere insieme a noi il referendum, perché è l'unico referendum senza quorum in Italia che si fa e si fa proprio sui disegni di leggi costituzionali. E in quel caso chi va a votare esprime il parere e conta. Quindi porteremo a votare le persone su questa legge costituzionale e faremo in modo che i cittadini poi si esprimano a secondo del prodotto che sarà uscito. Anche se per assurdo ci dovesse piacere la riforma conclusa, noi comunque dobbiamo chiedere ai cittadini cosa ne pensano. E per questo poi il blog, voi con la cosa, noi da qui dobbiamo spiegare bene ai cittadini cosa si sta facendo alla Costituzione. Perché, e concludo, una cosa importante è che non dobbiamo pensare che il semipresidenzialismo non significhi niente dal punto di vista delle casse dello Stato. Questi signori più comandano, più fanno danni economici. Noi l'abbiamo visto in questi anni. Più emanano decreti folli, più hanno fatto danni alle casse dello Stato e più potere hanno nelle mani, più fanno del male ai soldi alle casse dello Stato e quindi poi provocano l'aumento delle tasse per colmare i buchi, l'aumento delle tasse per pagargli le auto blu e così via. Questa è una cosa da scongiurare per tantissime ragioni, tra cui quelle che diceva anche Riccardo. E' un'altra cosa che volevo dire Matteo, perché magari molti non l'hanno sentita, non l'hanno letta, che durante la conferenza dei capigruppo e subito dopo nelle dichiarazioni, sia soprattutto il Ministro Franceschini, ma anche il rappresentante del PD in conferenza dei capigruppo, hanno detto che questo provvedimento doveva essere chiuso, doveva essere esaminato entro luglio e questo era stato chiesto proprio dal Parlamento tramite la mozione di maggioranza approvata qualche settimana fa, se non mi sbaglio a fine maggio e primi di giugno. In realtà questo è non vero, falso, perché? Perché la mozione impegnava il Governo a presentare e non a esaminare e concludere l'iter entro luglio, ma a presentare il disegno di legge costituzionale entro giugno e lo hanno fatto, infatti al Senato è stato presentato entro giugno. Dopodiché per quanto riguarda il termine dell'iter, nella mozione si parla solamente entro 18 mesi, non è assolutamente citato entro luglio, mentre invece con questa scusa di dire ma ce l'ha chiesto il Parlamento, ce l'ha scritto nella mozione che deve essere esaminato e sciolto entro luglio, hanno intanto iniziare dichiarato una cosa non vera e questo secondo me per delle forze politiche, per delle istituzioni è molto grave e soprattutto hanno cambiato quella che è la realtà delle cose. Io non lo ammetto, non me ne intendo, faccio coming out, quindi a livello istituzionale non mi dovrei poter esprimere, ma qualcuno giustamente diceva in chat, ma fare una protesta ufficiale per esempio col Presidente Napolitano che dovrebbe essere il primo garante della difesa della Costituzione, oppure inventarsi qualche cosa di assolutamente forte mediaticamente, ipotizzare le dimissioni in blocco di tutti i deputati per far sì che i media siano obbligati a prestare attenzione a quello che sta per succedere. Come la vedete voi, entrambe le soluzioni, le ipotesi? Noi oggi stasera avremo anche un'assemblea del gruppo parlamentare per cominciare a vedere quali sono le azioni da mettere in campo in questo momento, tra cui c'è sicuramente l'appello ai Presidenti delle Camere e anche al Presidente della Repubblica, ma in una conferenza stampa di qualche settimana fa io ho rivolto proprio questo appello lanciando una provocazione dicendo se il Parlamento deve funzionare così è meglio chiuderlo. E tu Matteo capisci che una dichiarazione di un Vice Presidente della Camera che dice di chiudere il Parlamento non è stata riportata da nessun giornale, da nessun Tg, una questione grandissima che riguardava il fatto dei decreti, il fatto che ci mettono la fiducia e ci costringono a ratificare come se fossimo dei notai alcune decisioni, è finita completamente nel buio. In questo momento quando si vuole i grillini fanno notizia per gli scontrini, quando dicono cose sensate come quello che sta succedendo adesso per la riforma costituzionale, per non parlare poi della riforma dei regolamenti parlamentari se vuoi ci facciamo un'altra trasmissione, in questo momento buio totale, si sta difendendo un'azione che è sovversiva, perché molti costituzionalisti dicono che l'articolo 138 dovrebbe rientrare in quella parte non modificabile della Costituzione, proprio perché disciplina come modificare la Costituzione, ed è una follia che questo Parlamento eletto con questa legge elettorale che è viziata di incostituzionalità adesso stia addirittura cambiando le regole per modificare la Costituzione, è una follia. È bello che mi piacerebbe quando vi sento poter avere delle buone notizie di cose che stiamo facendo, che riuscite a fare. No ma guarda, secondo me Matteo queste sono delle buone notizie, perché finalmente abbiamo delle persone che anziché far finta di litigare con gli altri gruppi parlamentari, spiegano ai cittadini cosa sta accadendo, e questo è fondamentale, non è una cosa da poco, cioè io la reputo finalmente una buona notizia. No, non lo vedevo come qualcosa di negativo, ti dicevo che mi dispiaceva perché mi sembrava di sentire per l'ennesima volta che siamo con le spalle al muro, che non abbiamo veri e propri strumenti per sconfiggere questa gente, mi viene voglia a me personalmente, che sono la persona più pacifica del mondo, di venire con una tenda e mettermi dal 28 di luglio, un giorno prima, non si sa mai l'anticipassero, starci a oltranza fino al 10 di agosto davanti a Piazza Montecitorio, di farlo insieme a tante altre persone. Ovviamente so che voi istituzionalmente mi riportate alla calma e dite no, seguiamo l'Itero io credo che adesso, guarda io ti dico questo, abbiamo per fortuna ancora un impianto parlamentare che ci lascia degli strumenti per potergli dire guardate voi potete andare avanti sulla legge costituzionale ma sui decreti poi diventa un Vietnam, perché il problema principale è che sanno che non esiste il contingentamento dei tempi e quindi potrebbero stare qui tutta l'estate, mettono la fiducia, benissimo, ma come sai l'ultima fiducia a Letta non gliel'hanno votata 70 persone della maggioranza e più andranno avanti più il governo barcolla, quindi in un modo o in un altro noi abbiamo ancora una serie di strumenti e per questo stiamo qui, altrimenti non ci vedresti qui, saremo anche noi fuori, invece crediamo di avere ancora gli strumenti per poter organizzare quantomeno un'offensiva a difesa della Costituzione. È importante però che i cittadini capiscano l'importanza di questa cosa, io capisco che ci sono alcune cose che a scuola non le abbiamo mai studiate, anche la Costituzione non l'abbiamo mai studiata, infatti è nel nostro programma, la dobbiamo portare avanti questa cosa, bisogna studiare la Costituzione bene le scuole, perché questa ha un'importanza fondamentale e in questo momento anche andarla a dire in tv, in talk show risulta difficile perché non fa audience e nessuno ce lo dice. Sì, è un argomento diciamo noioso. E sfruttano questo, sfruttano anche l'essere noioso di questo argomento e anche in qualche modo la tecnicità di questo argomento per non farlo uscire. Molto spesso secondo me ci sono giornalisti che non essendo giornalisti specificatamente della materia non riescono neanche bene a spiegarlo questo concetto, ma è importantissimo perché se tolgono di mezzo il Parlamento io non vedo più quale sarà la possibilità di questo Paese di riuscire a portare le istanze dei cittadini al governo. Io adesso poi cercherò di trasferire questa vostra fiducia, ecco, siate voi il nostro ariete, nel senso che fateci capire quale via via saranno le modalità necessarie e più giuste, più adatte per proseguire questa lotta, questa guerra e per farvi sentire che voi siete solo la prima linea, ma dietro c'è un esercito democratico, pacifico, di persone però assolutamente molto determinate perché ovviamente si scaldano gli animi e moltissimi, direi un 80% vorrebbe essere già lì in piazza Montecitorio, fare uno sciopero generale, bloccare tutto, cominciare a infilarsi dentro gli ingranaggi e mettere di fronte al fatto compiuto questa gentaglia che non possono continuare a violentare in questa maniera la Costituzione e quindi il popolo italiano. Diciamo anche che comunque le persone purtroppo, vista la situazione, devono anche tenersi pronte ad un'eventuale manifestazione del proprio pensiero, sempre in maniera pacifica e non violenta, però potremmo avere l'esigenza di chiedere ai cittadini di partecipare, di dare il loro contributo in termini di idee al riguardo, cioè di fare sentire la loro opinione. Bene, con questa piccola parte conclusiva della chiacchierata che ci ha rinfrancato un po', io vi lascerei alla vostra giornata che immagino sarà impegnata, impegnativa, sia Luigi che... Domani vogliono eleggere la Santanchè vicepresidente della Camera, quindi è abbastanza impegnativa quella di oggi. Ecco, Luigi, una piccola battuta su questa cosa, secondo te cosa c'è dietro questa spinta per l'elezione di Daniela Santanchè, che sembra solo un proforma, o potrebbe essere come io penso il tentativo di creare un casus belli, ovvero di spaccare l'eventuale governo per dire ecco, voi non ci avete votato Daniela Santanchè e noi vi togliamo la fiducia, no? No, guarda, io ti dico questo, è tutta una finzione nel senso che loro non hanno problemi a votare Daniela Santanchè, hanno messo altre persone al governo e gli hanno dato la fiducia, quindi non credo che sia questo il problema, il problema è non far vedere che con naturalezza la voterebbero e quindi in questo momento inizia il gioco delle parti, il teatrino della politica, sì, no, Nisca, da bianca, tutte quelle cose lì, noi qui ci siamo per chiamarli alle loro responsabilità, se questa maggioranza è maggioranza allora insieme si votassero Daniela Santanchè vicepresidente. Detto da parte mia, l'unico piacere di questa notizia è che siamo di nuovo finalmente quattro vicepresidenti e quindi dobbiamo dividerci quattro turni e non più in tre ci dividevamo quattro turni. Come hai visto sugli F35 ho fatto dieci ore di seduta in cui c'è stato anche il dibattito con Alessandro Di Battista e il teatrino che ormai spesso ci coinvolge in questo doppio ruolo, ci vogliamo bene comunque, al di là del dovere di noi. Qualcuno commentava che tutto sommato forse non rispondermi sì o no, non rispondere, rimani, mantieni il vestito da vicepresidente della Camera che tutto sommato ti saresti voluto volentieri levare il maglione e scendere a fianco a Alessandro Di Battista ma questo lo pensiamo noi. Questo non te lo posso dire. Esatto. Però sappi che comunque su questa cosa della Santanchè loro devono prendersi le responsabilità, non possono pensare ancora una volta come facevano prima ad esempio che tutti votano scheda bianca e il PDL se le legge da solo. Questo non può essere assolutamente la loro strategia perché ci siamo noi in mezzo con un certo sette voti e decideremo qual è la cosa migliore da fare. Bene, io spero sempre di più che gli italiani che hanno votato il Movimento 5 Stelle abbiano e comincino a capire anche quelli che all'inizio erano così magari delusi perché pensavano a questo ipotetico mai esistito così governo, alleanza col governo con il Partito Democratico, sappiano che invece hanno riposto il loro voto in ottime mani. Questo mi è chiaro ogni giorno di più. Quindi grazie Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera. Grazie Riccardo Nuti, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera. Buon lavoro ragazzi e buona trincea. Ciao. Ciao, grazie Matteo. Grazie mille. Buon lavoro. Un abbraccio da tutta la chat delle nostre 6.000 persone che in questo momento arriva fino a Montecitorio. Ringraziare i nostri due ragazzi che sono lì a fare il lavoro sporco purtroppo e sempre più lo è. Ritorniamo in diretta all'ora del nostro Quattro Eugenio di Milano. Fra pochi minuti sarà disponibile il podcast di questa bella chiacchierata per cui ringrazio nuovamente Luigi e Riccardo di essere sempre presenti anche quando c'è necessità di dare ai cittadini il resoconto di quello che succede in quel palazzo. Sono le 17 e 16 minuti, ci fermiamo qui.